In questa lezione andrò a chiarire il concetto di proporzionalità diretta e in particolare quando questa proporzionalità diretta viene utilizzata, qual è il significato, quali sono le possibili rappresentazioni che possono essere adottate per poter leggere in modo veloce questa relazione di proporzionalità diretta. La proporzionalità diretta intanto è un concetto che lega due grandezze. È una relazione, questa proporzionalità diretta, ed è una relazione tra due grandezze, una relazione che rimane essere una relazione fissa tra quelle due grandezze. Possiamo fare alcuni esempi di relazioni fisse tra quelle grandezze. Una relazione che possiamo utilizzare, già utilizzata nella lezione nella quale venivano definite le funzioni, è il legame tra il perimetro di un quadrato e il suo lato. Quindi perimetro uguale 4 volte per il lato. Il fatto che la relazione sia fissa è dato dalla costanza di questo numero, cioè tutte le volte che io scelgo un valore del perimetro ho associato a quel valore del perimetro, scusate, un valore del lato, ho associato al valore del perimetro un numero specifico che dipende da quello del lato. Quindi in termini generali, se sono con una formula che è 4 per L e io vado ad associare un valore specifico al mio lato, 2, quello che ottengo è che il perimetro 4 per 2 risulterà essere 8. Se al lato associo valore 3, la relazione è fissa, quindi sempre moltiplicandolo per 4 otterrò il perimetro, che in questo caso sarà 12, nel caso di lato 5, 5 per 4 sarà 20 e avrò quindi una relazione tra queste due variabili, una relazione fissa data in particolare dal numero 4. E' importante in questa fase di introduzione delle funzioni, delle proporzionalità dirette e inverse, cominciare a familiarizzare con l'utilizzo di simboli. Quindi nella formula che va a definire una relazione vengono utilizzati dei simboli che vanno a rappresentare a volte grandezze fisiche esistenti, in questo caso il perimetro e il lato. A volte sono dei simboli svincolati da grandezze fisiche esistenti, per esempio in questa relazione y uguale 5 per x io posso, come nel caso della relazione precedente, assegnare dei valori alla x. Se x vale 0, 5 per 0 risulterà essere 0. Se x vale 1, 1 per 5 risulterà essere 5. Se x vale 3, 3 per 5 risulterà essere 15. Anche in questo caso ho costruito una relazione che lega una variabile che è questa a cui assegno i valori che ricordo essere la variabile indipendente. E' variabile indipendente perché i suoi valori li assegno in modo svincolato dai valori assunti da qualsiasi altra variabile. Ma una volta che ho assegnato i valori alla variabile indipendente, i valori della variabile y sono vincolati a quella scelta che ho fatto. E questa è la ragione per cui la y si definisce come variabile dipendente. Stessa cosa per quanto riguarda il lato, è una variabile indipendente, il perimetro sarà una variabile dipendente. Dicevamo l'importanza dei simboli, dicevo. In questo caso il lato è il perimetro, in questo caso la x e la y. Quello che poi risulterà essere il risultato di un'applicazione effettiva della formula verrà data dall'assegnazione di valori a uno dei simboli, in particolare a quello della variabile indipendente, e dal calcolo del valore assunto dalla variabile dipendente. Quindi in questa fase è importante sapersi muovere tra formule che sono quasi totalmente simboliche. Qui c'è un numero, vediamo poi come rafforzare questo simbolismo totale nella rappresentazione di proporzionalità diretta, quindi sapersi muovere tra queste formule e i valori numerici adottati. Quindi è importante che la relazione tra le due grandezze sia una relazione fissa. Un altro tipo di esempio potrebbe essere quello che riguarda, chiamiamo con i, l'incasso, cioè quanto effettivamente viene pagato, e un operaio rispetto al numero delle ore che va a svolgere di lavoro. Posso dire quanto effettivamente un operaio viene pagato rispetto al numero delle ore di lavoro che svolge, chiaramente se qualcuno mi dà, quant'è la sua paga oraria. Mettiamo che la paga oraria sia di 15 euro, questo 15 risulta essere il rapporto fisso tra il numero di ore e l'incasso dell'operaio e questo rapporto fisso mi consente di andare a calcolare l'incasso nel caso in cui il numero di ore debba essere 0, quindi l'operaio non ha lavorato, incasso ovviamente 0, risultato dell'operazione 15 per 0 e se si lavora 3 ore l'incasso sarà di 45 euro, se se ne lavorano 4 l'incasso sarà di 60 euro e questa relazione rimane una relazione fissa, in particolare guidata da questo numero qui, che è il 15. Il simbolismo utilizzato per la variabile indipendente e per la variabile dipendente potrebbe essere anche esteso al valore che mi lega le due grandezze. Quindi, in senso generale, una relazione di proporzionalità diretta può essere scritta in questo modo, y uguale k per x, dove questo k risulta essere il legame fisso tra la x e la y. Allora, vediamo in questo caso se k vale 15, se la mia x aumenta di 1, la y aumenta di 15, cioè di k volte. Se invece la x aumentasse di 2, la y aumenterebbe di 30 volte rispetto al valore precedente, ad un aumento di x, quindi corrisponde un aumento di y, in proporzionalità diretta, cioè c'è una relazione fissa tra l'aumento della x e quella della y, cioè la y aumenta di 15 volte l'aumento di x, nel caso, appunto, di pago orario. In questo caso di 4 volte, in quest'altro di 5 volte. Anche qui, in termini generali, c'è l'introduzione di questo k. posso passare da questa relazione y uguale kx, se considero la mia x come valore sempre diverso da 0, posso dividere per x da entrambe le parti e ottengo a secondo membro una semplificazione di queste due x e quindi una formula che è y su x uguale k, che è una formula che richiama un po' di più il fatto che la relazione tra la grandezza dipendente e quella indipendente, il loro rapporto, rimane sempre fisso, cioè l'aumento di una è in rapporto fisso con l'aumento dell'altra. La proporzionalità diretta ha necessità anche di essere rappresentata graficamente. Se prendo la rappresentazione grafica, devo mettere in ascisse la mia variabile indipendente, in questo caso è l'orario, e qui la mia variabile dipendente, che sono gli incassi. In ordinate vado a mettere 0, 3 e 4. Scusate, in ascisse vado a mettere 0, 3 e 4. In ordinate i valori che assumo. Per 0 vale 0, e visto che per 4 assumo 60, la scala sull'asse delle x risulta essere più estesa rispetto a quella sull'asse delle y, cioè l'unità sull'asse delle y è molto piccola per poter arrivare a graficare questa proporzionalità diretta in particolare. Un punto risulta essere questo di coordinate 4, 60, che è il punto identificato da questa situazione, P2, P1 e P0. Il P0 è proprio nell'origine. Il P1 è un punto per il quale la H vale 3 e la I vale 45, quindi 3 e 45. Il punto è qui, questo era il mio P2, questo era il mio P1. Se vado ad unire i punti, l'operazione che sto facendo dal punto di vista grafico si chiama interpolazione. L'interpolazione appunto è l'unione dei punti. Se, di punti che già ho sul grafico, se la guardo dal punto di vista geometrico, questa retta la potrei proseguire anche da questa parte. Questa parte qui, se vediamo le coordinate dei punti, sono coordinate che hanno una H minore di 0 e che quindi non hanno, per questa situazione in particolare, un significato fisico. Non c'è un numero di ore negativo lavorato dall'operaio. E la rappresentazione può essere utilizzata in tutte le situazioni in cui ho una formula di proporzionalità diretta e quindi, in questo caso anche, quando il lato e il perimetro sono in relazione, al lato che vale 2 il perimetro vale 8, anche qui ho delle grandezze sproporzionate tra ascissa e ordinata per poterle rappresentare in uno stesso grafico. Quando vale 3 sono a 12 e in questo momento con due punti già potrei graficare la rappresentazione lineare che è questa e quindi verificare a posteriori che l'ulteriore punto, quello che ha una scissa pari a 5, 4, 5 e un'ordinata pari a 20, effettivamente sta sulla retta che avevo disegnato. Cioè, la retta, una volta disegnata, mi consente di predire quali sono i punti che ad essa appartengono e quindi quali sono le coppie di valori che rispettano la funzione inizialmente data di legame tra l'ascissa e l'ordinata. Quindi il grafico è una rappresentazione esauriente quanto la formula. Dovete allenarvi a passare dalla formula al grafico e dal grafico alla formula per quanto riguarda le funzioni, non solo queste di proporzionalità diretta, ma un po' tutte quante. Allora, l'abitudine è di lavorare con la x e con la y e estraggo una tabella, cosa che non ho fatto nei casi precedenti, la tabella era quella che riportava i valori qui di x e y, qui di lato e perimetro e qui di ore e incassi. Per x uguale a 0 la y, l'ho già calcolata, vale 0, per x uguale a 1 la y vale 5, per x uguale a 3 la y vale 15. Anche in questo caso rappresentazione numerica, che trasformiamo in una rappresentazione geometrica, 1, 2, 3, 4 e 5. Questo punto qui. Ho utilizzato più o meno la stessa proporzione. Ecco, in questo caso estendo la retta anche nel, questo si chiama terzo quadrante, perché qui la rappresentazione di tipo funzionale, proporzionalità diretta, non ha un significato fisico e quindi posso rappresentarla anche nella parte di piano cartesiano che in questo caso non poteva esistere perché non c'era la misura L negativa e non c'era un numero di ore negative anche in questo caso. Allora, la rappresentazione di proporzionalità diretta, quindi, è una rappresentazione, lo vediamo dai grafici, che posso dichiarare come una rappresentazione di tipo lineare. Cioè lineare perché effettivamente è una linea quella che rappresenta questa funzione. È una linea importante e nel momento in cui si dà un grafico, quella linea va a stabilire la relazione tra le grandezze x e y presenti del grafico. Considerate che il grafico può essere un grafico lineare nel quale l'inclinazione della retta rappresentante può essere di tipo diverso. Questa è un'inclinazione più orizzontale rispetto alle altre e nelle rette l'inclinazione verrà rappresentata da una grandezza che si ha coefficiente angolare e il coefficiente angolare viene chiamato generalmente m e mi dà conto di quanto la retta è inclinata. Considerate che rette orizzontali hanno un coefficiente angolare pari a zero e poi il coefficiente angolare aumenta al punto che quando la retta è verticale diventa un coefficiente angolare di valore altissimo. Una retta che divide esattamente in due l'angolo di 90 gradi, che è una retta che si chiama bisettrice, è una retta che ha un coefficiente angolare pari a uno. Quindi zero l'orizzontale, uno questo, poi il coefficiente angolare in realtà tra qui e qui varia da zero a uno, ma in questa parte restante in realtà varia da uno a valori molto molto grandi. Importante anche capire, ma rette più inclinate sono associate a numeri più grandi o più piccoli di questo k? Cioè, se k vale 3 rispetto ad x, 3 per x quindi, oppure se k vale 7 rispetto ad x o se k vale 15 rispetto ad x, quale delle rette io ci potrei associare? Allora, identifico queste rette da una lettera, lettera A, lettera B e lettera C. Facciamo questo ragionamento. Se il coefficiente k vale 3, cioè un numero basso rispetto a 7 e 15, che cosa succede? Che quando la x aumenta, da 1 va da 2, la y aumenta ma attraverso una moltiplicazione per 3. Se invece ho 7, la y aumenta attraverso una moltiplicazione per 7. Quindi, se per esempio per x uguale a 1, la y in questo caso viene sempre con una certa... vediamo un attimo... ipotizziamo che il 3 sia questo. Quindi, che questa qui sia la retta corrispondente... Allora, l'avevo già dichiarata come retta con coefficiente angolare 1, quindi devo dire che questa retta qui è una retta che chiamo con d in cui il mio k vale proprio 1, quindi 1 per x. Questa retta qui di coefficiente angolare 1 è la mia retta d. Se aumento il valore di k, quello che succede è che per il valore 1 di x il corrispondente valore di y vale, per esempio 7, cioè un valore molto alto. Questo valore alto fa sì che la retta debba passare per quel valore lì e quindi più il valore di k è alto, più le rette sono verticali, più il valore di k è basso, più ho rette orizzontali. y uguale, per esempio, 0,1 per x potrebbe essere questa retta qui, più orizzontale. Quindi l'inclinazione della retta mi dà una misura del valore della costante moltiplicativa di proporzionalità di retta. Ci sono dei grafici che possono essere associati alla proporzionalità di retta, e questi per esempio sono tra quelli. ci sono dei grafici che pur stabilendo un certo legame di aumento tra i valori di x e quelli di y, cioè in questo caso se x vale 1, per esempio y vale 4, se x vale 2, y vale 5, ma non passando la retta per l'origine non possono essere dichiarati come di proporzionalità di retta. Quindi questi sono dei controesempi, dei grafici che io non posso dichiarare come di proporzionalità di retta. Anche dei grafici fatti in questo modo, che non passano nuovamente per l'origine. Alla proporzionalità di retta poi corrisponde quella che si chiama proporzionalità inversa. La accenno brevissimamente. Nella proporzionalità di retta la relazione è questa. In quella inversa il prodotto tra x e y a rimanere costante, quindi se ho x per y per esempio uguale a 5, se x vale 1, la mia y, che mi deve dare 5, farà 5, se x vale 5, la mia y vale 1, cioè ad un aumento di una delle due variabili corrisponde una diminuzione dell'altra. Vedremo poi nella lezione dedicata alla proporzionalità inversa che il grafico corrispondente nella proporzionalità inversa sarà quella che si chiama iperbole e quindi graficamente un'iperbole sarà associata alla proporzionalità inversa mentre una retta, passante per l'origine, ha la proporzionalità di retta.